Eccoci su Sicilia 24 per una nuova edizione di Spazio Notizia che apriamo parlando di cronaca con una prima notizia da Palermo. Una palermitano di 45 anni è stato denunciato per avere danneggiato il triage al pronto soccorso dell'ospedale civico di Palermo. L'uomo si trovava da alcuni giorni ricoverato in ospedale, i medici avevano disposto per lui le dimissioni ma il paziente non aveva alcuna intenzione di lasciare l'ospedale. Così ha iniziato a imbeire contro gli stessi medici e con un pugno ha danneggiato il box del triage nell'area di emergenza. Sono quindi intervenuti i carabinieri in soccorso dei sanitari e il palermitano è stato come detto denunciato. Ed ora invece una notizia da Siracusa in casa custodiva illegalmente un'arma della droga e anche due volatili di una specie protetta. Vediamo il servizio. I carabinieri della stazione di Belvedere e dello squadrone li portato cacciatori di Sicilia hanno effettuato una perquisizione domiciliare nell'abitazione di un noto pregiudicato del luogo che coltivava in casa una piccola piantagione di marijuana. Le cinque piante crescevano in una serra che l'uomo alimentava con elettricità proveniente da un traliccio dell'alta tensione a cui si era allacciato abusivamente peraltro con elevato pericolo di cortocircuito e incendio. Durante le operazioni i militari hanno rinvenuto e sequestrato un fucile calibro 12 con oltre 100 cartucce detenuto illegalmente. Nell'abitazione sono state anche rinvenute in una voliera due poiane volatili di specie protetta e pertanto sequestrati e affidati alla Lipu di Siracusa che ha provveduto al trasferimento degli animali presso il centro di recupero fauna selvatica di Messina. L'arrestato che al momento non ha inteso collaborare con gli inquirenti circa la provenienza dell'arma, delle munizioni e della droga è stato sottoposto agli arresti domiciliari come disposto dall'autorità giudiziaria del capoluogo. Ancora cronaca ci spostiamo adesso nella messinese il 54enne Tindaro Faranda è morto in ospedale al Papardo di Messina dopo 20 giorni di ricovero. L'uomo era caduto battendo la testa in seguito a una colluttazione. Secondo la ricostruzione Faranda lo scorso 14 maggio sarebbe stato coinvolto in una lite a Sinagra al culmine della quale sarebbe stato spinto battendo la testa sul marciapiede. Sulla vicenda la procura di patti ha aperto un'inchiesta con la collaborazione dei carabinieri. Invece adesso ci spostiamo virtualmente a Sortino per parlare di un tragico incendio. Prima l'esplosione nella notte in un'abitazione di due piani in via Carlentini a Sortino nel Siracusano, poi appunto l'incendio. Vincenzo Failla, 56 anni, operaio forestale, è deceduto. La sorella invece che abitava insieme a lui è stata estratta viva dalle macerie dai vigili del fuoco e subito ricoverata in ospedale. Secondo una prima ricostruzione l'esplosione sarebbe stata provocata da una fuga di gas, si è poi innescato un incendio che ha letteralmente devastato l'immobile. I vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza l'aria. Questa quindi la tragica notizia arrivata come detto da Sortino. Parliamo ancora di cronaca allicata. I poliziotti del locale commissariato hanno denunciato un giovane per aver sferrato alcuni colpi di coltello ferendo un coetaneo al culmine di una lite. Ora il giovane deve rispondere dell'ipotesi di tentato omicidio. Il fatto è avvenuto in un condominio di Licata. Attualmente è in corso l'indagine per risalire al movente. E parliamo ancora di aggressioni ma ci spostiamo a Porto in Pedocle dove un 29enne del posto è stato arrestato per le ipotesi di reato di resistenza, violenza o minaccia a pubblico ufficiale. Il giovane rientrato a casa ubriaco avrebbe tentato di aggredire i propri familiari i quali si sono poi rivolti ai carabinieri. Alla vista degli uomini in divisa però il ragazzo non si è calmato, al contrario si sarebbe scagliato anche contro di loro finendo poi in manette. Per lui è stata disposta la sottoposizione agli arresti domiciliari. E un'altra aggressione è avvenuta invece ad Agrigento dove i carabinieri delle stazioni di Agrigento e Villaseta hanno arrestato un trentenne e suo padre di 61 anni, entrambi residenti a Raffadali con le accuse di violenza o minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Per il trentenne invece anche l'accusa di rifiuto di sottoporsi ad accertamento della guida in stato di ebrezza. I due fermati a un posto di controllo nel quartiere Agrigentino di Villaseta avrebbero aggredito i carabinieri dopo aver appreso che l'auto sulla quale viaggiavano sarebbe stata sequestrata. Il giovane infatti era senza patente e in evidente stato di alterazione psicofisica probabilmente dovuta agli alcolici. Il trentenne è stato posto agli arresti domiciliari mentre il genitore è stato portato presso la carcere pasquale di Lorenzo. E' ancora una tragedia sulle strade siciliane, ancora una morte e sangue proprio sulle strade siciliane, in questo caso a Cefalù l'incidente è avvenuto in contrada figurella, un'auto e uno scooter per cause ancora da accertare si sono scontrati frontalmente. Nello schianto ad avere la peggio è stata una donna, Roberta Macaione, 39 anni, che viaggiava insieme al figlio di sette anni rimasto fortunatamente illeso. La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 ma è morta pochi minuti dopo l'arrivo al pronto soccorso dell'ospedale Giglio. Sull'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Cefalù che dovranno ovviamente accertare le responsabilità di questo tragico incidente. E torniamo a parlare della vicenda dei due cuginetti travolti e uccisi da un SUV a Vittoria perché ci sono degli sviluppi importanti e anche Matteo Salvini ha esternato il proprio pensiero in merito a questa situazione. Gli sviluppi sono che Rosario Greco, ovvero l'uomo condannato per omicidio stradale per l'uccisione dei due cuginetti Alessio e Simone D'Antonio, è tornato adesso ai domiciliari e quindi ha lasciato il carcere e si trova adesso nella sua abitazione di Vittoria. Ricordiamo che il fatto è accaduto l'11 luglio del 2019. La Cassazione a marzo ha annullato la sentenza ad appello con la quale Greco era stato condannato a nove anni, il processo dovrà dunque essere ricelebrato. Ovviamente tanta amarezza per i genitori dei due cuginetti, ha parlato ad esempio Alessandro D'Antonio, il padre del piccolo Alessio, siamo arrabbiati e delusi, ha dichiarato questa è una giustizia ingiusta e non riusciamo a capire quale motivazione possa aver trovato il giudice per concedere i domiciliari. Non sono trascorsi nemmeno tre anni, dice, e il responsabile va appunto ai domiciliari, mentre noi scontiamo il nostro ergastolo a vita, chi li ha uccisi lascia il carcere, questo non posso accettarlo, ha dichiarato giustamente e in modo condivisibile Alessandro D'Antonio, il padre del piccolo Alessio. Dicevamo, ha parlato anche Matteo Salvini di questa storia che ha fatto chiaramente il giro dei giornali anche stamane, le parole di Matteo Salvini affidate come spesso fa ai social, sono chiaramente disdegno, una vergogna, una schifezza, scrive il leader della Lega, giustizia per Alessio e Simone, la vita di due bimbi vale. Mi auguro vivamente che il presidente Mattarella intervenga. Dunque Salvini appunto si rivolge a Mattarella chiedendo un suo intervento per una vicenda come detto che sta facendo discutere e chiaramente continuerà a fare discutere ancora per la sua gravità, come detto stamane tutti i quotidiani ne hanno parlato. Noi cambiamo adesso argomento e parliamo invece della guerra in Ucraina, facciamo il punto della situazione perché ci sono novità importanti, mentre chiaramente proseguono i combattimenti, ma da Mosca è arrivato un preciso attacco all'Italia. L'ambasciata guidata da Sergei Razov infatti ha pubblicato sul profilo Facebook Stralci di un rapporto in cui si accusano media, banche e istituzioni italiane di discriminare i cittadini russi residenti. La Russia denuncia violazioni dei diritti dei cittadini russi che vivono in Italia e un'aperta campagna antirussa da parte dei media italiani, evidenziando la crescita di sentimenti russofobi nella società italiana. È arrivata ovviamente la replica del ministro Luigi Di Maio che dice basta alla mistificazione della realtà e alle provocazioni. I media italiani, ha affermato il ministro degli esteri, svolgono il proprio lavoro in maniera egregia e dall'inizio di questa atroce e sanguinosa guerra che Putin sta portando avanti in Ucraina hanno raccontato i fatti in modo professionale con inviati sul campo che hanno rischiato la vita per documentare i tragici fatti. Tutto questo dice Di Maio mentre in Russia è vietato parlare di guerra, mentre vengono censurate le immagini terrificanti di civili ucraini uccisi dalle bombe russe, mentre manifestanti russi vengono arrestati perché si oppongono alla guerra. Questo dunque il pensiero di Di Maio e queste invece le ultime notizie che arrivano dall'Ucraina. Cambiamo ancora argomento, adesso parliamo di rifiuti, nessuna bocciatura del piano di rifiuti, basta polemiche. Lo dice l'assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità Daniela Baglieri rispondendo così ai deputati del Movimento 5 Stelle che nei giorni scorsi avevano parlato di una bocciatura da parte della Commissione Europea al piano di rifiuti della regione siciliana. Il Ministero della Transizione Ecologica, ha affermato l'assessore, sta facendo le sue valutazioni in merito e io sono al lavoro per integrare e revisionare il documento che ho trovato al mio insediamento. Per quanto mi riguarda il confronto è sempre utile, non sono interessata alle polemiche, a volte fine a se stessa, che rischia invece di danneggiare gli interessi di tutti i cittadini inermi da 30 anni alla politica dei rifiuti. Questo dunque il pensiero dell'assessore regionale Baglieri. Adesso invece parliamo dell'aeroporto di Palermo che nello scorso mese di maggio ha fatto registrare numeri record. Vediamo il servizio. Il mese di maggio fa segnare un altro record per l'aeroporto internazionale di Palermo Falcone Borsellino. È la prima volta che a maggio il numero dei passeggeri in transito supera il tetto di 700.000. Ma c'è un'altra buona notizia. Nei primi cinque mesi del 2022 i numeri sono tornati a essere agli stessi livelli del periodo pre-pandemia. Per la precisione, nel mese appena trascorso i passeggeri sono aumentati del 7,34% rispetto allo stesso mese del 2019. 704.577 contro 656.406. E invece del 2,6% l'incremento del numero di voli da e per lo scalo aereo palermitano. L'aeroporto di Palermo è tra gli scali che hanno avuto una maggiore crescita percentuale del numero di voli. Numeri in aumento che incidono sul periodo gennaio-maggio. E la sorpresa è il raggiungimento dei livelli di traffico del 2019. Ciò indica che a giugno si prevede il sorpasso sul 2019. Aumenta inoltre del 5,43% il numero dei voli. Il traffico internazionale ha inciso per il 29% su maggio e ha raggiunto il 23,5% sul periodo gennaio-maggio. Le previsioni per il mese di giugno indicano che sarà un altro mese da record. E chiudiamo con una notizia da Agrigento. La città si candida a capitale della cultura del 2025. La città è in possesso di tutti i requisiti necessari per presentare la candidatura per la riconosciuta storia millenaria, si legge nel documento firmato dalla giunta comunale. Tra le motivazioni anche il fatto che la Valle dei Templi ha ottenuto il premio nazionale del paesaggio nel 2016-2017 e nel 2018 ha ottenuto la menzione speciale al premio europeo del paesaggio del Consiglio d'Europa. Dunque arrivata la conferma, Agrigento si candida a capitale della cultura del 2025. E chiudiamo questa edizione di Spazio Notizia, non ci sono aggiornamenti ma l'informazione ovviamente continua su Sicilia 24.